Sono ore, giorni, settimane molto difficili perché siamo chiusi tra le mura delle nostre case e non abbiamo la possibilità di frequentare gli spazi sociali. 15 giorni fa abbiamo dovuto chiudere i teatri, cinema, i musei, gli spazi culturali della nostra città. Ma la cultura si è saputa reinventare, devo dire, in maniera formidabile, non in maniera sostitutiva, perché questo sarebbe assurdo dirlo, ma ha aggiunto una nuova modalità di raccontarsi attraverso la rete, i social network, il racconto digitale. Così sono nate esperienze come il Decamero degli Uffizi, come la Firenze TV del Teatro della Toscana e di tutti i teatri cittadini che hanno partecipato, o il progetto digitale online della Fondazione Palazzo Strozzi, del Museo Novecento e dei tanti musei che hanno saputo raccontarsi in un altro modo. Ecco, grazie a questa capacità, a questa resilienza, a questa voglia di fare e di uscire da questa crisi, riusciremo ad affrontare questo momento di difficoltà e ritrovarci nei nostri spazi della nostra città.